A febbraio, preparatevi ad accogliere la Monica più bella, sexy e provocante che abbiate mai visto sullo schermo. Questa volta Monica Sardaniela, italiana a Parigi, oggetto del desiderio di molti uomini, in un film che ci parla di sesso e di amore. Anche voi credete che nella vita le storie di sesso finiscano bene, mentre qualche volta quelle d'amore finiscono male? Quando vedrete il film forse lo capirete. Monica Bellucci, Gerard Depardieu, Bernard Campan, per sesso o per amore? Una commedia con la Monica che avete sempre sognato.